Abbiamo voluto intitolare questa giornata, dare un tema a questo nostro incontro, ascoltare voce del verbo amare. E così come vedremo tra qualche istante, in realtà partiremo da un fondamento della vostra vita monastica, che è proprio il numero uno della vostra regola. Ma prima di entrare nello specifico, in quello che ho immaginato di condividere con voi oggi, vorrei cercare di spiegare perché è importante il verbo ascoltare, cioè in che modo questo verbo concorre alla nostra santificazione. La vita cristiana non è l'adesione alle idee di Gesù, la vita cristiana non è la condivisione dei valori del Vangelo, la vita cristiana è relazione con la persona di Gesù Cristo, questa è la vita cristiana. Ogni relazione diventa significativa quando questa relazione è una relazione di amore. E l'amore ha come verbo più importante il verbo ascoltare. Tu ami qualcuno quando lo ascolti. Perché quando tu ascolti qualcuno, gli stai dicendo tu esisti, tu sei vivo, tu sei viva. L'ascolto quindi diventa la caratteristica più importante dell'amore. Infatti in una famiglia, ad esempio in una relazione tra uomo-donna, oppure tra genitori, figli, tra amici, molto spesso si consuma molta solitudine quando si smette di ascoltare l'altro. Si può vivere nella stessa casa, paradossalmente si può vivere nello stesso monastero, monastero e sentirsi molto soli. Ma non di quella solitudine che aiuta la vita spirituale, ma di quella solitudine che è incapacità di relazionarsi con gli altri, di entrare in comunione con gli altri. Voi sapete che c'è una parola che si avvicina molto al termine comunione, ed è la parola comunicazione. Si può costruire una comunione solo se c'è una sana comunicazione. E la comunicazione non è solo parlare, ma è anche ascoltare. È dire e ascoltare. Quindi noi entriamo in comunicazione con l'altro quando impariamo ad ascoltare l'altro e quando impariamo a dire le parole che ci portiamo nel cuore. Questa comunicazione crea comunione. E la comunione è la vittoria più grande sull'opera del male. Perché il male vorrebbe da ciascuno di noi un senso di impotenza che nasce dalla solitudine e dalla sensazione della solitudine. L'inferno è sentirsi soli, è sentirsi tagliati fuori dalle relazioni. Ora, se questo è vero a livello orizzontale, cioè nei rapporti tra di noi, diventa decisivo questo nei rapporti con Cristo. Noi possiamo dire che Gesù è davvero qualcuno che è dentro la nostra vita, che è una persona, solo e soltanto se noi ci mettiamo in ascolto di Lui. E anche se siamo abituati attraverso la spiritualità e quello che cerchiamo di vivere dentro la nostra vita, di capire, almeno in generale, teologicamente, che cosa significa ascoltare Gesù, pensate ad esempio all'Alexio Divina, ma ne parleremo tra un istante quando entreremo nello specifico, vorrei cercare di tirar fuori oggi qualcosa di importante, e cioè, quando funziona la relazione con Cristo, la parola e l'ascolto con Cristo, funziona anche la parola e l'ascolto con le sorelle, con i fratelli accanto a noi. Cioè, le due cose non sono uno contro l'altro o uno separato dall'altro, ma una persona impara le relazioni fraterne se ha una buona relazione con Cristo. E se non diventa vera la relazione fraterna, significa che non è vera nemmeno la relazione con Cristo. Cioè, l'effetto più bello della nostra vita spirituale lo si vede dalla qualità delle relazioni tra di noi. In questo senso, noi abbiamo sempre bisogno di sorelle e di fratelli accanto, perché sono la verifica del nostro percorso spirituale. Se io non riesco a guardare se è cambiata o meno la qualità delle relazioni tra di noi, in realtà io non capisco nemmeno a che punto è il mio rapporto con Cristo. Ora, che cosa faremo? Io avevo immaginato questo nostro incontro diviso in due momenti. In realtà terrò insieme tutti e due questi momenti. Saranno due tempi dello stesso discorso. La prima parte cercherò in qualche modo di spiegare come si costruisce l'ascolto. Che cos'è questo ascolto? E da dove si parte quando una persona dice io devo imparare ad ascoltare. La seconda parte invece è cercare di lasciarci illuminare in questa modalità dell'ascolto dalla parola di Dio. Cioè, che cosa ci suggerisce la parola di Dio rispetto a questo verbo, al verbo ascoltare. Poi tireremo le somme e capiremo c'è un modo di vivere la sinodalità nella vita monastica? C'è un modo di vivere la sinodalità in quella che è l'esperienza vostra di vita comunitaria, di vita insieme, nel vostro percorso vocazionale, in quella strada che il Signore ha immaginato per ciascuno di voi. Ma partiamo dall'inizio. Ogni relazione, dicevamo, è basata sull'ascolto. Ma in realtà non è possibile ascoltare gli altri se non si è capaci di ascoltare se stessi. Cioè, la partenza vera dell'ascolto non riguarda l'altro, ma riguarda noi. Paradossalmente non riguarda nemmeno Gesù, ma riguarda noi. Se tu non sei capace di ascoltare te stesso, sei incapace di ascoltare Dio, sei incapace di ascoltare gli altri che hai attorno a te. Vedete, questo in realtà è lo stesso metodo della vita spirituale. Voi sapete, il punto di partenza della vita spirituale è conosci te stesso. Se tu non ti conosci, non puoi nemmeno cominciare un percorso di vita spirituale. Isacco di Ninive ha questa espressione straordinaria. Dice, bisogna preferire la conoscenza di sé e del proprio peccato alla visione di angeli. Se uno desidera vedere gli angeli, ma non conosce se stesso, ha un desiderio sbagliato. Perché c'è una cosa superiore alla visione degli angeli, è la conoscenza di noi stessi. E sapete perché questo è importante? Perché se tu non ti conosci, non ti rendi conto che quando tu ti rapporti con la realtà intorno a te, sei condizionato dal tuo mondo interiore. Se tu non conosci te stesso, non ti rendi conto che il modo che hai di guardare la realtà intorno a te è figlia di una storia che tu ti porti dentro. E se tu non riesci a dare un nome a questa storia, tu cominci a dire che la verità è quello che tu vedi delle cose, quello che tu senti delle cose. Non hai una capacità di giudizio perché non conoscendo veramente te stessa e la tua storia, non ti rendi conto che la tua storia e quello che ti porti nel cuore sono come un paio di occhiali che tu indossi e che ti aiutano a vedere o a vedere poco ciò che c'è intorno a te. Voglio farvi un esempio molto concreto. Immaginiamo di venire da una famiglia dove le cose non hanno funzionato perfettamente, quindi magari non abbiamo respirato un clima di fiducia. In termini proprio familiari, che cosa accade? Che inevitabilmente per quanto quella cosa ci ha fatto soffrire e noi non vorremmo rivederla dentro la nostra vita, quella mancanza di fiducia che abbiamo respirato ci ha condizionati. Questo condizionamento ci porta, ad esempio, a guardare gli altri sempre con sospetto, a guardare gli altri sempre sulla difensiva. Ora, è possibile cancellare la nostra storia passata? No, ma se tu la conosci riesci subito a capire se stai sulla difensiva o se stai ascoltando veramente l'altro, se ti stai rapportando realmente all'altro. Quindi, non si tratta di conoscere se stessi per cancellare noi stessi, non si tratta di conoscere la nostra storia per poter dire adesso la cambio e la capovolgo. Ci sono delle cose che riusciamo a cambiare. Altre cose, vedete, mie care sorelle, ci accompagneranno per il resto della nostra vita e non importa. Va benissimo così. Ma se tu sai queste cose, mentre tu ti rapporti all'esterno, riesci subito a capire se quello che stai percependo o capendo della realtà intorno a te è vero o è frutto del tuo condizionamento. una cosa che può accadere ad esempio è che chi ha vissuto come vi dicevo prima una fatica nelle relazioni familiari ha una sorta di sindrome di persecuzione nelle relazioni. Cioè, pensa sempre che l'altro abbia qualcosa contro di te. E questo è difficile poi avere un rapporto sereno con l'altro se tu sei sempre sulla difensiva nei confronti dell'altro. se l'altro ad esempio ti dice ma guarda forse dovresti spostare la sedia la prendi subito sul personale come se fosse un giudizio sulla tua persona ma è solo una sedia da spostare. E vedete questo funziona a livello orizzontale ma funziona anche a livello verticale cioè con Cristo. Il Vangelo invece di essere liberante lo percepiamo sempre come un giudizio su noi stessi. Come dire non sei abbastanza non sei all'altezza non corrispondi fino in fondo quello che è la radicalità del Vangelo e può capitare che in questi pensieri che sono pensieri di disprezzo nei confronti di noi stessi noi pensiamo che stiamo coltivando l'umiltà. L'umiltà non c'entra nulla. Il Vangelo è sempre liberante quando tu usi il Vangelo per disprezzarti c'è qualcosa che non funziona. Non è capacità di essere umili non è una buona vita spirituale perché tu ti sminuisci costantemente il Signore non vuole che tu ti sminuisca che tu ti conosca che tu sappia dire di te la tua grandezza e la tua piccolezza la tua potenzialità e le tue incapacità cioè che tu abbia con te un rapporto realistico. Gesù è uno che chiama le cose per nome sa denunciare il peccato sa denunciare la miseria ma sa anche valorizzare le persone che incontra sa che Pietro lo tradirà sa che Pietro lo rinnegherà ma non è spaventato assolutamente da questa opzione infatti prima che questo accada Gesù dice a Pietro quando ti sarai ravveduto quando avrai raccolto i pezzi e ti sarai rimesso in piedi dice conferma i tuoi fratelli nella fede questa è l'umiltà l'umiltà di dire che noi siamo capaci di rinnegare il Signore ma che siamo anche capaci di essere la roccia su cui si fonda la Chiesa quindi capite quanto è importante la conoscenza di noi stessi quanto è importante l'ascolto di noi stessi l'ascolto di un mondo che ci portiamo dentro le cose che sto per dirvi certamente già le conoscete permettetemi però di abbiate pazienza di riascoltare queste cose anche se nella vostra formazione nella vostra vita normale avete una confidenza con questi temi ma forse dirli ad alta voce metterli in ordine possono aiutarci a capire come possiamo fare un passo in avanti come possiamo progredire in questo senso quando noi diciamo che il primo vero ascolto è l'ascolto di se stessi che cosa significa? significa dire che nel nostro mondo interiore noi siamo abitati da tante cose moltissime cose io ne ho scelte solo tre ma in realtà troviamo nel nostro mondo interiore molte altre cose il tempo che stiamo vivendo è il tempo della quaresima il tempo della quaresima è un tempo favorevole per la conversione quando noi pensiamo alla conversione lo pensiamo sempre come un modo per comportarci meglio ma la conversione non è questo la conversione non è migliorare le nostre azioni quella è semplicemente una una sorta di conseguenza la vera conversione è la capacità di guardare le cose dal punto di vista giusto è guardare le cose dalla parte del Vangelo dalla parte di Cristo bene il primo gesto della conversione ce lo insegna la parabola del padre misericordioso che troviamo in Luca è quello che viene raccontato in questa storia tutti noi la conosciamo a memoria il figlio più piccolo va via da casa prende i soldi di suo padre la parte di eredità quindi lo considera morto va in giro e spende tutti gli averi di suo padre in amici prostitute feste poi a un certo punto si ritrova senza soldi l'orgoglio non lo fa tornare a casa ovviamente allora si mette a lavorare diventa il custode di un branco di maiali comincia a invidiare i maiali in quel momento dice Luca e questo penso che sia la parte più geniale di tutto il racconto inizia la conversione di questo ragazzo attente perché inizia non è lì la conversione in un momento particolare dice Luca tornò in sé stesso e disse quanti salariati in casa di mio padre eccetera tornò in sé significa che fino a quel momento era fuori di sé ora guardate paradossalmente tu puoi vivere in un monastero e vivere fuori di te non dentro di te perché il posto peggiore in cui noi non vorremmo mai trovarci è dentro di noi perché dentro di noi non è un posto accogliente è il deserto è un luogo abitato da bestie feroci è un luogo dove a volte non troviamo l'acqua e quindi non ci piace stare dentro di noi per questo viviamo fuori e di noi persino la liturgia può diventare un modo per non entrare dentro noi stessi le preghiere che pronunciamo con la bocca le facciamo in maniera tale da non entrare dentro noi stessi il lavoro non è un modo per santificarci ma un modo per distrarci da noi stessi capite è un rischio quello di non tornare dentro noi stessi semplicemente perché perché non ci piace fare i conti con tutto quello che ci portiamo dentro ma è necessario per la nostra conversione tornare dentro noi stessi attraversare questo deserto convertirci cominciare a rivolgerci a quello che ci portiamo nel cuore e vi dicevo quando entriamo dentro noi stessi troviamo tante cose io ne ho voluto individuare tre che sono le cose principali la prima troviamo la stratificazione della nostra storia tutto quello che abbiamo vissuto ha lasciato un segno nella nostra vita di bello di brutto tutto quindi il nostro mondo interiore è abitato dalle esperienze che abbiamo fatto pensate un po' quando Teresa Davila parlando alle sue monache carmelitane dice che alcuni pensieri della vita passata ti accompagnano per il resto della vita perché le cose che hai vissuto ti hanno segnato in maniera tale che a volte la memoria di quelle cose diventa potente dentro di te prende il sopravvento su di te è il nostro mondo interiore cioè la nostra storia ma questa è solo una parte delle cose che ci portiamo dentro la seconda cosa che ci portiamo dentro è la voce del male il male per parlarci non ci parla esternamente ma ci parla interiormente se ci parla esteriormente o abbiamo particolari doti mistiche o abbiamo qualche problema da farci curare perché la vita spirituale non è mai esternalizzata ricordatevi questo la vera vita spirituale è sempre interiore non è mai esteriore quindi non sono voci fuori di noi sono voci dentro di noi e il male ha uno spazio nella nostra interiorità e ti accorgi che lui perché a differenza delle esperienze della tua storia che hanno lasciato un segno il male è sempre violento sempre e fa quello che gli riesce meglio accusare sminuire giudicare disprezzare chiudere scoraggiare toglierti la speranza è una voce che rallenta la vita ed è una voce molto convincente perché solitamente per poterci convincere di qualcosa ha un sacco di materiale a disposizione comincia a dire ah vedi ma tu sei questa tu hai fatto questa cosa ma tu ogni volta cadi in questo quindi ha un sacco di argomenti per cui questa voce è una voce suadente dentro di noi la terza voce la terza cosa che ci portiamo nel nostro mondo interiore è la voce dello spirito che a differenza del male non è una voce violenta è una voce delicatissima direbbe la sacra scrittura raccontandoci l'episodio di Elia la voce di un silenzio di una brezza leggera cioè una voce che per ascoltare devi fare un sacco di attenzione perché non è una voce che si impone è una voce che si propone con delicatezza senza mai sovrastare la nostra libertà ecco anche questo è un metodo di discernimento quando una cosa è eccessivamente violenta non viene mai dallo spirito lo spirito non agisce attraverso la violenza è sempre delicato lo spirito il tocco dello spirito è sempre un tocco delicato quando è invece violento è il male e quindi bisogna sempre diffidare dalle forti sensazioni bisogna diffidare dalle forti voci dai pensieri che ci ci costringono ad andare a destra o a sinistra in maniera troppo violenta il signore raramente usa la forza raramente il modo che ha di parlarci è un modo delicato cioè parla e lo ascolti solo e soltanto se fai grande attenzione ora quando noi ci mettiamo in ascolto del nostro mondo interiore cominciamo a sentire tante voci quindi la voce della nostra storia la voce del male la voce del bene e qui nasce la prima domanda innanzitutto noi siamo capaci di ascoltarci e quando ci ascoltiamo riusciamo a fare la differenza delle voci che ci portiamo dentro cioè riusciamo a fare discernimento e sapete perché questo è importante perché se tu impari a discernere la voce della tua storia dalla voce del male dalla voce dello spirito lo sai fare anche esternamente quando la tua sorella ti rivolge la parola riesci subito a capire se quella parola viene dal suo carattere se viene dal male o se viene dal bene di cui a volte la persona che ti sta parlando inconsapevolmente sta prestando la voce allo spirito o al demonio o semplicemente sta esprimendo il proprio carattere la propria personalità ma se tu sei capace di farlo interiormente con te stesso con te stessa riesci a farlo esteriormente con le persone che ti circondano e quindi tu prendi sempre sul serio quello che ti viene detto ma riesci subito a capire ciò che va veramente ascoltato e ciò che va ignorato ad esempio il male va sempre ignorato sempre non va mai preso sul serio anche quando dice una cosa vera non bisogna mai ascoltare il male quando tu capisci che una cosa viene dal male non gli dai peso perché la cosa che odia il male è non essere preso sul serio invece vorrebbe sempre essere preso sul serio per questo ci tocca sempre affettivamente tocca le corde scoperte tocca la nostra fragilità perché sa che se tocca quel nervo scoperto noi scattiamo e se invece vede che noi rimaniamo tranquilli perde di forza il male allora quando una sorella ti parla e presta la propria voce senza rendersene conto ovviamente al male noi possiamo avere la capacità di lasciarci scivolare addosso quella parola non avvertirla come una ferita perché sappiamo che viene dal male non dal bene quindi questa capacità di leggerci interiormente ci mette nella condizione di poter leggere il mondo fuori di noi ovviamente può sembrare che io vi stia spiegando una sorta di itinerario una pedagogia che parte da noi e poi va a finire non lo so alle più alte vette di ascolto in realtà tutto quello che vi sto dicendo è mescolato cioè non esiste un momento in cui tu dici ok passo una parte della mia vita ad ascoltare solo me poi faccio lo step successivo comincio ad ascoltare gli altri poi arriva il turno di Dio è tutto insieme nella nostra giornata nel nostro tempo nella nostra vita però il primo punto di partenza è l'ascolto di noi stessi ecco così come una persona immaginate un bambino non so se vi è mai capitato di vedere un bambino piccolo ogni tanto quando mi capita di dover andare a fare il precetto pasquale mi chiamano in un asilo è sempre molto difficile parlare ai bambini piccoli la cosa che a me colpisce dei bambini piccoli è che ad esempio quando si impuntano o piangono per qualcosa la loro maestra si avvicina o un loro genitore o un educatore si avvicina e gli dice che cos'è successo cioè si lasciano raccontare dal bambino che cos'è che lo turba che cos'è che lo fa piangere dandogli la parola praticamente disinnescano la forza emotiva cioè il pianto perché? perché potendolo dire a qualcuno è come se il problema è già risolto se tu lo puoi consegnare a qualcuno voi capite che se noi non ci ascoltiamo se noi non siamo capaci di ascoltare noi stessi questo è una grave mancanza di amore nei confronti di noi stessi è una grave mancanza di carità nei confronti di noi stessi perché ricordatevi che il primo modo che Dio ha di amarci siamo noi la prima manifestazione dell'amore di Dio sono io quindi se io non mi voglio bene se io non mi amo sto togliendo a Dio l'opportunità di amarmi e se io mi amo la prima cosa che devo domandarmi è perché? che cosa sta succedendo? darmi la parola interrogarmi chiedermi che cosa mi porto dentro che cosa mi fa soffrire che cosa mi turba che cosa mi fa gioire che cosa mi sta spingendo leggere il nostro mondo interiore il luogo del cuore ora questa è semplicemente la prima formula d'ascolto chi non è capace di ascoltarsi non è capace di ascoltare quindi tante frizioni relazionali tra di noi e tanti problemi spirituali nascono dal fatto che noi ci siamo persi il punto di partenza il rapporto con noi stessi conosci te stesso ascolta te stesso questa è la vera umiltà ricordatevi questa cosa l'umiltà è la conoscenza di sé ed è la base di ogni esperienza di santità sempre chi si conosce è avvantaggiato nel percorso della santità secondo secondo gradino è la capacità di ascoltare le circostanze e cioè il bene e il male non è semplicemente dentro di noi il bene e il male è anche nelle circostanze intorno a noi cioè noi ogni giorno siamo messi nella condizione di dover dire che faccio prendo questa strada o quest'altra mi comporto in questo modo o in quest'altro modo faccio questa scelta o un'altra ricordate quando nella parola si dice io pongo dinanzi a te la via del bene e la via del male scegli tu dove vuoi camminare ora noi siamo messi costantemente nella nostra giornata nella posizione di dover scegliere il bene e il male nelle circostanze che viviamo e quindi non basta semplicemente che tu conosci il tuo mondo interiore devi anche capire se riesci a leggere le circostanze intorno a te se sai ascoltare quello che sta succedendo intorno a te e questo non è scontato perché perché normalmente pensate un po' a quello che ci ha insegnato Cristo in che cosa potremmo sintetizzare la via di Cristo Cristo salva il mondo attraverso la croce la croce non è una cosa che a noi piace l'esperienza della fatica e della sofferenza deliberatamente scelta non è una cosa che ci attira ma una cosa che tu accogli solo e soltanto perché Cristo ci ha insegnato che a partire da questa esperienza c'è la Pasqua quindi la cosa che ci viene più umanamente da fare è scegliere sempre la via più semplice quella che implica meno fatica quella che ci fa fare che ci fa vivere meno sofferenza ma non è detto che quella via più semplice è anche la migliore a volte sì ma a volte no ora siamo capaci di leggere le circostanze siamo capaci di saper vedere il bene e il male intorno a noi siamo capaci cioè di dire in questo momento storico noi nella vita monastica stiamo vivendo un periodo di crisi mettiamolo in questo modo stiamo vivendo delle difficoltà è troppo poco dire quella è una difficoltà tu sai leggere quella difficoltà cioè sai guardarci dentro Dio sta permettendo quella divisione ad esempio che cosa c'è da imparare in una circostanza difficile in una fatica che stiamo facendo che cosa che scelta di santità possiamo fare perché poi vedete il problema vero non è risolvere i problemi intorno a noi è farci santi con i problemi intorno a noi mettiamo il caso che io questa sera vado a fare le analisi e scopro di avere una malattia che mi porterà in pochi mesi a morire allora la cosa ovviamente il desiderio più grande che mi può nascere nel cuore è pregare Dio perché mi tolga quella malattia mi guarisca ma c'è in realtà una domanda ancora più seria come posso farmi santo con quella malattia cioè fermo restando che non posso cambiare quella situazione come posso santificarmi con quella situazione ora voi capite che la cosa che ci viene più normale da fare è constatare che c'è un problema troppo poco dire abbiamo un problema la cosa interessante è dire come posso farmi santo questo problema ora finché una malattia mi capite subito ma quando la malattia riguarda il monachesimo ma quando la malattia riguarda non lo so la comunione tra di noi ma quando la malattia riguarda non lo so un certo modo di vivere la nostra vita la nostra storia oppure una mancanza che tocca la nostra esperienza vocazionale in che modo posso farmi santo con questo cioè scelgo come stare davanti a queste cose so ascoltare la voce di Dio che mi parla attraverso gli eventi è questo che vi sto domandando non semplicemente se io ho i mezzi per risolvere i problemi ma se ho la capacità di ascoltare Dio nei problemi perché certe volte Dio permette la tripolazione perché ci sta dicendo qualcosa e noi dobbiamo avere la capacità di ascoltare questa voce avere la capacità innanzitutto di fare la grande differenza nel dire che Dio non è l'autore di quel problema molto spesso i problemi ce li creiamo noi e sono frutto nostro quindi non dobbiamo dire ah Dio ha voluto questa divisione no Dio riempie di significato una divisione ad esempio ma non è l'autore di questa roba qui tutto concorre però al bene per coloro che amano Dio allora posso ascoltare quelle circostanze e domandarmi come devo vivermi quelle situazioni come posso santificarmi attraverso quella situazione so ascoltare Dio che mi parla negli eventi so farlo terza terza caratteristica dell'ascolto allora vedete siamo partiti da ascoltare noi stessi sapere ascoltare gli eventi finalmente arriviamo a sapere ascoltare gli altri allora l'ascolto non è andare d'accordo l'ascolto è accogliere la parola dell'altro anche quando quella parola non mi corrisponde e non basta semplicemente accogliere la parola dell'altro così come ho imparato a fare nel mio cuore e nelle mie circostanze devo essere capace di fare discernimento della parola della sorella che ho accanto della parola del fratello che ho accanto perché quella parola può venire da quella persona può venire da Dio o può venire dal male so fare questa differenza so ascoltare allora vi faccio un esempio che è sicuro che nelle monache benedettine questa cosa non accade ma certe volte le persone ferite feriscono e quindi a volte le nostre parole sono come dei coltelli affilati e quando tu riesci a capire questa differenza ti rendi conto che ad esempio una persona sta ferendo perché sta soffrendo o sta ferendo perché non ha risolto qualche suo problema o sta ferendo semplicemente perché si sta prestando al male che partendo da una ferita agisce in quella persona questo ci porta ad avere sempre molta misericordia nei confronti degli altri esattamente come dovremmo avere misericordia nei confronti di noi stessi perché ricordatevi che saper fare la differenza in noi nel dire questo è frutto della mia storia questo è di Dio e questo è del male non ci viene chiesto di giudicare ma di discernere che è una cosa diversa giudicare significa volere sempre dare la colpa a qualcuno di qualcosa discernere significa saper fare la differenza allora quando una parola viene dall'umanità dell'altro posso prenderla in considerazione o anche no non succede nulla quando viene dal male è sicuro che non devo mai prenderla in considerazione quando viene da Dio oggettivamente io devo accettare quella parola vi condivido questo perché magari potrà essere utile voi sapete che la chiesa è gerarchica che cosa significa che è gerarchica che ognuno di noi occupa un posto un posto che in realtà non è un posto di comando ma è un posto che ci aiuta a santificarci quindi ad esempio se io sto vivendo non lo so un momento di difficoltà nella mia vita l'obbedienza al mio vescovo mi salva perché? perché è un punto fermo io sono confuso il mio vescovo diventa un punto concreto quindi la sua parola mi può salvare la vita la sua non quella di un mio amico perché essendo la chiesa costruita in questo modo la grazia di Dio passa attraverso quella persona che su di me è una responsabilità anche se è la peggiore persona al mondo ma per il posto che occupa per la grazia del posto che occupa la sua parola è una parola oggettiva per me in questo senso l'obbedienza mi salva la vita in quel momento questo significa vedete a volte avere la capacità di dire che ci sono parole che hanno un peso specifico perché sono pronunciate da qualcuno che ha un ruolo specifico dentro la nostra vita tutte le parole che mi dice il mio vescovo sono parole che mi salvano la vita no capite? ma ci sono dei momenti nella vita in cui io capisco che se non so dove andare so a chi chiedere perché la sua parola mi può salvare l'esistenza allora se il mio vescovo a un certo punto mi dicesse devi rinunciare al tuo libero arbitrio perché io so che cosa è giusto e sbagliato dentro la tua vita beh no questo non funziona in questo modo cioè le persone che hanno una responsabilità nei nostri confronti non sono in sostituzione della nostra coscienza non sono al posto del nostro cuore ma sono persone a servizio della nostra coscienza e del nostro cuore che in particolari momenti della vita diventano significativi e ti salvano l'esistenza ma che negli altri momenti della vita stanno al loro posto perché non si devono sostituire a te quindi quando una persona è eccessivamente presente nella vita dell'altro per il posto che occupa non sta facendo un favore a quella persona perché non la sta aiutando a crescere a sviluppare il discernimento a saper scegliere personalmente le cose se un giorno io mi ritrovo all'inferno dico sì ma io ritrovo all'inferno perché mi hanno detto che chi obbedisce non sbaglia sapete chi diceva questa cosa grazie che citi San Massimiliano Colpe perché io invece stavo citando i nazisti quando durante il processo di Norimberga dicevano ma è vero noi abbiamo trucidato un sacco di persone ma abbiamo obbedito ci hanno detto di fare questa cosa ah no attento attenta tu è vero che hai obbedito ma tu hai una coscienza e se tu ti sei accorto che quella era una cosa sbagliata e l'hai fatta cioè ti sei messo contro la tua coscienza quell'obbedienza non ti giustifica nella tua azione allora chi obbedisce non sbaglia e nei momenti in cui io sono nella totale confusione e una persona che ha una responsabilità nei miei confronti può salvarmi la vita l'ascolto di quelle persone mi salva la vita ma normalmente nella quotidianità io devo avere capacità di discernimento capacità di scelta capacità di capire dove è il bene e dove è il male e saper scegliere il bene e rifiutare il male ecco io non lo so se noi siamo capaci di far questo però vedete siamo chiamati a fare questo cioè l'ascolto vero è l'ascolto che ci mette in questa relazione con gli altri in cui la parola dell'altro è sempre una parola che io prendo sul serio perché potrebbe essere la parola di Dio che prendo sul serio perché riconosco ad esempio che sta agendo il male la prendo sul serio perché riconosco che sta agendo la semplice umanità di quella persona ma la prendo è sempre sul serio dove si rompe la comunione quando a un certo punto io decido che qualunque cosa dirà quella persona sarà sempre male gli eccessi sono sempre negativi sempre quindi qualunque cosa mi dirà Don Luigi è sicuro che è il bene non è vero qualunque cosa mi dice Don Luigi è sicuro che è male non è vero io devo saper discernere questa cosa siamo capaci di un ascolto così capace di discernimento capite che quando si pensa alla sinodalità non la si guarda semplicemente dicendo beh siccome pure la chiesa si sta rendendo conto che dovrebbe usare un po' di più la democrazia adesso la sinodalità portata dentro i nostri ambienti significa la mia mano alzata ha un valore più forte adesso perché c'è la sinodalità non è la mano alzata non è il numero non è le maggioranze la sinodalità non è questo la sinodalità è capire che l'ascolto è la parte più significativa di una relazione anche nelle relazioni ecclesiali è che un vescovo che non ascolta il popolo di Dio ha un problema molto serio perché non sta capendo che cosa sta dicendo il Signore a lui attraverso il popolo di Dio il popolo di Dio che non ascolta il suo vescovo ha un problema molto serio perché non sta ascoltando cosa Dio sta dicendo attraverso il suo pastore una chiesa che dice no è sicuro che tutto quello che dice Papa Francesco è eretico capite che è un inganno del demonio non metterci in ascolto del pastore universale del successore di Pietro ma ci arriveremo a questo non vi preoccupate mi interessa però dirvi che ciò che nasconde la sinodalità è la qualità dell'ascolto perché si riferisce alla qualità della relazione quindi quello che vi sto cercando di dire di condividere è che alla fine di questo nostro incontro non tireremo fuori una tecnica dicendo se io faccio così è sicuro che non sbaglio noi siamo sempre nel rischio di sbagliare ma è come se il Signore ci sta dotando dei mezzi per poter avere un ascolto attento di ciascuno di noi riuscire a fare la differenza in tutto questo quarto scalino di questo nostra di questa nostra ascesi nell'ascolto in realtà questo scalino che ho messo per ultimo nella vita monastica in realtà nella vita cristiana ma nella vita monastica soprattutto dovrebbe essere lo scalino primordiale cioè la base il pianerottolo ecco diciamo così su cui poggiare tutte le scale e cioè è l'ascolto di Dio nella sua parola Dio ci parla soprattutto nella sua parola quella che noi conosciamo come la pratica dell'alexio divina è la capacità di saper discernere la parola di Dio nella sua parola io ascolto il Vangelo non basta ascoltare il Vangelo devo discernere che cosa il Signore mi sta dicendo nell'ascolto di quel Vangelo Dio mi parla attraverso la sua parola ora mi piacerebbe dirvi questo che il vantaggio che la vita monastica vi dà è esattamente questo essendo voi allenate ad ascoltare Dio nella sua parola così come riuscite a fare l'exio divina di una pagina del Vangelo riuscite a fare l'exio divina del vostro cuore l'exio divina degli eventi e l'exio divina dei fratelli e delle sorelle che avete accanto così così con la stessa sacralità con la stessa devozione con la stessa attenzione con cui maneggiate il Vangelo quando fate l'exio divina dovete maneggiare il cuore gli eventi e le sorelle allora quando tu leggi quel brano tu ti accorgi scavando con la tua preghiera che il Signore non ti sta parlando solo alla lettera ma che è nascosto qualcosa sotto quella lettera e comincia a dire mi stai dicendo questo Signore attraverso questa pagina del Vangelo attraverso questa pagina della parola di Dio attraverso questi salmi che cosa mi stai dicendo allora tu ascolti questa parola e ti accorgi che è Lui perché avverti consolazione quando Lui ti parla avverti che la vita si sta allargando davanti a te avverti che quello che stai vivendo comincia ad assumere un significato la stessa cosa la devi fare col tuo cuore leggi il tuo cuore così come leggeresti una pagina del Vangelo leggi gli eventi come se stessi leggendo una pagina del Vangelo leggi le parole delle tue sorelle come se fossero una pagina del Vangelo e voi sapete che il Vangelo non dice sempre amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato il Vangelo è anche Gesù entrò nel Tempio e cominciò a tirare in aria i banchi dei mercanti e a gridare dicendo avete fatto della casa di mio padre una spelonca di ladri cioè la parola non è sempre una carezza a volte la parola scombussola rimette in discussione le cose esattamente come può succedere nel nostro cuore negli eventi e nelle sorelle e nei fratelli che abbiamo accanto ora se noi ci limitiamo semplicemente a recitare le ore a dire delle preghiere a pronunciare la parola di Dio a partecipare a degli eventi durante la giornata a sentire la regola che mi dice di andare lì di fare questa cosa di dirla in quel modo di cantarla in quel modo questa superficialità di vita non ci cambia ma il fatto che voi avete la grazia mie care sorelle avete la grazia di essere immerse per tutta la giornata in un mare di parola di Dio i salmi le letture la liturgia questo essere immersi nella parola di Dio vi abilita a sentire che Dio vi sta parlando attraverso ogni singolo versetto e questa consuetudine vi aiuta a saper leggere il gregoriano che vi portate nel cuore il gregoriano degli eventi il gregoriano delle sorelle quindi è proprio attraverso l'esercizio dell'ascolto della parola che tu riesci a capire te stesso a capire gli eventi e a capire gli altri ad ascoltare te stesso ascoltare gli eventi ascoltare gli altri mi piaceva darvi questa questa panoramica no perché ripeto la qualità dell'ascolto dice la qualità di una relazione se tu senti ma non ascolti c'è un problema relazionale sentire significa che un rumore ci ha raggiunto avete presente quando nelle famiglie succede che uno comincia a parlare 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 poi hai la sensazione che quella persona c'è con il corpo ma non c'è con la testa con il cuore dice ma mi stai ascoltando si si ti sto ascoltando e che ho detto che ho detto che ho detto ecco immaginate che qualcosa del genere noi facciamo con la parola di Dio con i salmi li abbiamo detti li abbiamo sentiti ma non li abbiamo ascoltati cioè la qualità del nostro ascolto non è profonda è superficiale e così come tu tratti con superficialità la parola tratti con superficialità il tuo cuore tratti con superficialità gli eventi e tratti con superficialità le sorelle e i fratelli che hai accanto e succede che finché le cose vanno bene non succede nulla ma quando arriva qualcosa che non va più bene tu sei subito turbato turbata perché non essendo abituato a leggere le cose ad ascoltarle in profondità ti limiti semplicemente a dire eh ma questa cosa non dovrebbe succedere è certo che non dovrebbe succedere però succede eh ma le guerre non dovrebbero esserci eh ma ci sono eh ma il buco dell'ozono dovrebbe chiudersi eh ma è aperto eh non dovrebbero esserci ingiustizie eh accadono le ingiustizie le malattie sono una cosa terribile eh ma ci si ammala cioè non bisogna meravigliarsi perché succedono queste cose dobbiamo domandarci se siamo capaci di ascoltare queste cose perché dire che Dio è il Signore significa dire che Dio è il Signore di tutto anche di quello che a noi non piace lui rimane il Signore noi siamo in balia della tempesta ricordatevi questa scena meravigliosa che i Vangeli raccontano noi siamo in balia della tempesta lui cammina sulle acque ora la domanda è per noi è più interessante la tempesta o lui che cammina sulle acque il Vangelo ci insegna che solitamente noi diamo più importanza alla tempesta di lui che cammina sulle acque anzi quando ci accorgiamo che lui cammina sulle acque la nostra reazione è e gridarono dalla paura è un fantasma interessante no? questa cosa dovrebbe ah ho il Signore che cammina sulle tempeste no? sulle acque agitate no ci spaventa significa che noi abbiamo un atteggiamento ancora mondano ragioniamo come ragiona il mondo chi entra in intimità con Cristo non lo turba più nulla nulla lo turba non è che non lo ferisce non è che noi non soffriamo non è che noi non ci spaventiamo non abbiamo paura ma in fondo al cuore c'è una pace che non può toglierci nessuno c'è una gioia che non può toglierci nessuno più entri in intimità con il Signore più non ti interessa quello che sta succedendo sulla superficie c'è pace grazie Signore c'è tribolazione grazie Signore questo è l'atteggiamento nuovo che noi abbiamo in questo ascolto allora capite che la qualità dell'ascolto dice la qualità di una relazione se tu ami Cristo devi ascoltarlo se tu ami le tue sorelle devi ascoltarle se tu ami te stessa devi ascoltarti se tu ami questa vita che è la grande occasione che il Signore ci ha dato tu devi ascoltare la vita l'ascolto la qualità dell'ascolto fine del primo tempo inizio questa seconda parte che è semplicemente una condivisione di quello che la parola di Dio ci suggerisce rispetto all'ascolto ascoltate oggi la sua voce non indurite il cuore come a Meriba come il giorno di massa nel deserto dove mi tentarono i vostri padri mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere vi ricordate questo versetto che noi costantemente risentiamo dentro la liturgia che cosa è successo alle acque di Meriba allora senza iniziare ad Amedeva sappiamo che il popolo di Israele viene tirato fuori dalla schiavitù dell'Egitto e viene tirato fuori dalla schiavitù dell'Egitto non in maniera facile ma attraverso l'opera potente di Dio che in una notte riesce a portare il popolo in salvo facendolo passare il leso attraverso il Mar Rosso che cosa simboleggia tutto questo che se uno rileggesse la propria vita si accorgerebbe che la vita è fatta di momenti attraverso cui il Signore si è fatto presente e ci ha aiutato soprattutto quando avevamo bisogno Dio è stato sempre presente e ha avuto sempre cura di noi però sapete che succede che quando incontriamo un problema ci dimentichiamo che in passato siamo stati aiutati e viviamo male il problema attuale come se fossimo soli al mondo cosa significa questo che molto spesso il nostro ascolto manca di una caratteristica che è la fiducia non indurite il cuore come a Meriba come il giorno di massa nel deserto che cosa era successo in quel momento il popolo aveva sete era nel cuore del deserto che cosa dicono loro che erano stati tirati fuori dall'Egitto erano stati accompagnati salvati eccetera tu ci hai condotto nel deserto per farci morire di sete come al solito stavamo meglio quando eravamo in Egitto allora Dio interviene in quel momento su un Mosè molto innervosito diciamo per far scaturire l'acqua dalla roccia e cioè per dare al popolo di Israele quello di cui ha bisogno in quel momento particolare ora questa è una cosa molto importante la nostra capacità di ascolto e di discernimento la nostra la qualità del nostro ascolto deve sempre avere come retrogusto la fiducia sempre non dobbiamo mai ascoltare come dei disperati del tipo se non capisco sono finita sono finito il Signore ha tutto l'interesse di farsi comprendere ad esempio se ti dice torna in te stessa e affronta chi sei non ti lascia da solo o da sola in questo lavoro se tu ti trovi a vivere una fatica relazionale nella tua comunità il Signore non ti lascia da solo in quella fatica relazionale se tu stai vivendo degli eventi difficili intorno a te il Signore non ti lascia da solo nella tribolazione allora perché tu affronti tutte queste cose invece come se fossi sola al mondo perché ascolti questo senza fiducia la fiducia deve precedere l'ascolto cioè Dio è dalla nostra parte Gesù è dalla nostra parte il Signore è dalla nostra parte quindi avere un atteggiamento fiducioso fa sì che il nostro ascolto non sia un ascolto disperato è un ascolto fiducioso tu Signore mi hai condotto fin qui e mi porterai oltre mi hai condotto nel deserto ma non mi abbandonerai mi hai fatto entrare nella vita monastica ma non mi lasci a piedi adesso che sto vivendo questa crisi mi spingi a vivere questa situazione ma non mi lasci da sola in questa situazione quindi questa è una domanda molto seria noi abbiamo una fiducia che precede l'ascolto questo ve lo dico da prete che ha la grazia di incontrare tante realtà ecclesiali questo questo strano mestiere che il Signore mi ha dato di girare di ascoltare di predicare mi fa incontrare molte realtà e certe volte io sono colpito dal pessimismo con cui noi parliamo della Chiesa cioè possiamo raccontare ad esempio questo momento storico cominciando a dire eh la gente non viene più non prega più non ci sono giovani non abbiamo vocazioni stiamo chiudendo qui non abbiamo più le forze ok questa è tutta una visione reale realistica ma anche molto pessimistica della realtà noi possiamo dire tutto quello che non va della Chiesa in questo momento ma sempre lasciando che questo realismo sia preceduto dalla fiducia il Signore non si è dimenticato di noi e sa benissimo che cosa stiamo vivendo quando Israele perde davanti ai popoli che lo schiacciano il Signore sa benissimo che cosa sta succedendo sa benissimo che alla fine rimane un piccolo resto in un angolo punto e basta ma il Signore non si dimentica di Israele mai si dimentica del suo popolo perché dovrebbe dimenticarsi di noi quindi va bene essere realisti ma sempre con molta fiducia nel Signore perché se dovessimo ascoltare le statistiche 10-20 anni abbiamo chiuso i battenti amici chiudiamo la ditta ma nella storia della Chiesa costantemente è successo questo che se tu ti affidi alle statistiche chiudi ma Dio non ragiona con le statistiche Dio è sempre inedito nelle sue cose misteriosamente a un certo punto dà delle spinte di santità che sono inimmaginabili non sono calcolate nelle statistiche ma questo dovrebbe farci respirare e dire che a noi è chiesto di abitare il presente di abitarlo in maniera fiduciosa punto domani chiuderemo i battenti pazienza ma io devo abitare in maniera fiduciosa il presente altrimenti noi continuiamo a preoccuparci e a non godere di questo momento storico di quello che il Signore ci ha affidato quindi non si tratta di chiudere gli occhi sulla realtà dobbiamo tenere gli occhi aperti sulla realtà ma dobbiamo tenerli aperti con fiducia faccio un esempio concreto se in un capitolo di una comunità si parla liberamente e si affronta con realismo quello che si sta vivendo in una comunità e si mettono le carte scoperte sul tavolo possono emergere tante cose che non vanno fino al punto di convincersi di dire ma quindi che ci stiamo a fare qui cioè se tutte queste cose non vanno questo significa che noi abbiamo perso la fiducia preventiva cioè noi possiamo permetterci di mettere tutto sul tavolo e aprire tutti i problemi proprio perché abbiamo un atteggiamento di fiducia nei confronti del Signore non perché tutto dipende da quanto siamo bravi e prestanti noi capaci di risolvere tutti i problemi che ci stanno succedendo e che stiamo vivendo no è una fiducia nel Signore non è una fiducia nelle nostre capacità la fede deve precedere l'ascolto la fiducia deve precedere l'ascolto altrimenti quando tu ti trovi davanti alla sete bestemmi anche se non bestemmi in maniera diretta ma dire stavamo meglio quando stavamo peggio è una bestemmia perché significa non fare tesoro dei benefici che il Signore ci ha dato seconda suggestione che ci viene dalla parola di Dio ascolto e governo cioè in che modo la Chiesa che è gerarchica in una comunità ognuno ha un suo ruolo anche di responsabilità nei confronti di qualcun altro in che modo questo ascolto dovrebbe funzionare cioè come dovrebbe essere costruito un sano ascolto anche qui ci viene in aiuto la parola di Dio sempre toccando l'esperienza del popolo di Israele che deve imparare la libertà prima di entrare nella terra promessa voi sapete che per 40 anni cammineranno nel deserto nel tentativo di Dio di insegnare al popolo di Israele ad essere libero solo quando saranno un popolo libero nella mentalità potranno accedere alla terra promessa e sappiamo per certo che la prima generazione non arriverà nella terra promessa ma i loro figli quindi significa che è un lavoro che deve scendere in profondità in queste persone non può rimanere nella superficie ecco in questa prima generazione che deve imparare la libertà uno dei ruoli più importanti c'è la Mosè è inutile che mi fermo qui ad approfondire la figura di questo straordinario personaggio ma mi interessa citare Mosè per un motivo molto semplice quando Mosè si mette a disposizione del Signore lo fa con una generosità estrema pur non avendo gli strumenti per farlo ha una storia difficile alle spalle non sa parlare ha anche la fedina penale sporca insomma non ha proprio le caratteristiche principali per avere responsabilità di governo ma ce l'ha è lui il liberatore di Israele perché vi dico questo da vicino nessuno di noi è affidabile quando tu ti avvicini a una persona e la vedi anche nei propri difetti nella propria storia eccetera non esistono persone ideali che ricoprono posti ideali esistono persone reali che devono ricoprire posti di responsabilità e li ricoprono con la loro umanità con i loro limiti con la loro inettitudine a volte ma il Signore gli dà la grazia di essere utili anche nel loro nel loro limite quindi prima cosa Dio per governarci usa persone che non sono perfette non sono impeccabili e quindi noi dobbiamo accettare che le persone che ci guidano sono persone umane guardate che se noi non perdoniamo l'umanità alle persone che ci guidano abbiamo un problema molto serio un mio amico monaco pensando al rapporto della Chiesa con il Papa eccetera mi disse un'espressione molto bella disse per fede noi crediamo che il Papa è infallibile non impeccabile significa che quando deve insegnarci la verità il Papa è infallibile ma la sua persona non è impeccabile cioè anche lui ha un carattere ha i suoi limiti ha la sua umanità cioè non è che il ruolo idealizza le persone quindi attenzione a questo guardate che la delusione che a volte ci viene che noi sperimentiamo è che ci dimentichiamo che le persone che ci guidano sono reali non sono ideali e se tu non perdoni l'umanità delle persone che ti guidano sei tu che hai un problema non quelle persone tu ce l'hai il problema perché quelle persone in realtà cercano di essere umane e attraverso i loro limiti cercano di servire ecco Mosè non è impeccabile eppure ha una responsabilità quindi prima cosa perdonare l'umanità delle persone che ci guidano perché se tu non accogli l'umanità delle persone che ti guidano non ti metti in un atteggiamento di ascolto qualitativamente basato sull'amore amare qualcuno significa essere disposti a perdonare perdonare l'umanità delle persone attenzione però a un certo punto Mosè che abbiamo detto non essere impeccabile si sovraccarica di lavoro fino al punto che il suocero va e gli dice amico così tu non puoi andare avanti fai tutto tu troppa roba troppa roba cioè devi giudicare fare guidare dare leggi comandare a un certo punto dice il suocero di Mosè Ietro gli dice a Mosè non devi fare così devi scegliere delle persone a cui delegare scegli capi di migliaia di centinaia di decine che ti aiuteranno nel governo tu tieni per te soltanto le questioni più gravose allora se prima vi ho detto che bisogna accettare l'umanità di chi ci guida perché senza questa accettazione non avviene nemmeno un rapporto di amore è vero anche il contrario che chi guida deve imparare a condividere e a non sovraccaricarsi di responsabilità che anche se è fatto con tutto lo zelo e la buona intenzione a un certo punto la persona coinvolta si esaurisce ed esaurisce la giusta misura sta nel fatto che chi governa preserva l'armonia non significa che toglie tutto a tutti perché si sovraccarica di un peso che è eccessivo anche qui non esiste una una tecnica dice ok fino a questo punto fino a quest'altro punto perché ogni realtà per esempio ogni comunità monastica ha una sua fisionomia e quindi il governo va esercitato a secondo di chi hai se io ho delle persone giovani delle persone anziane delle persone collaborative delle persone che vengono da un'altra sensibilità o un altro modo eccetera quindi il governo è la grande arte anche di saper dirigere e allo stesso tempo di saper delegare perché nel dare fiducia delegando in qualche maniera questa collegialità fa crescere le relazioni fraterne anche qui vi chiedo scusa se l'esempio può sembrare un po' infantile ma semplicemente devo estremizzare le questioni per cercare di trasmettere il succo della questione è ovvio che una madre sa che una madre di una famiglia dico sa che se lava lei i piatti i piatti sono migliori ma il fatto di dire facciamo a turno è un modo di responsabilizzare i figli ad esempio magari non saranno proprio pulitissimi i piatti ma il gesto di dire anche tu lavi i piatti il figlio può prenderlo come un obbligo ma in realtà è un atto di fiducia cioè io ti sto dicendo fai tu questa cosa in questa delega di responsabilità che può sembrare banale di lavare i piatti in realtà sta passando la fiducia quindi attenzione che piccoli gesti di condivisione di responsabilità in realtà rafforzano i legami fraterni perché sono dichiarazioni di fiducia fermo restando questo ve lo dico perché è un mio limito mi rimproveravano i superiori in seminario di questa cosa che se io io luigi voglio una cosa fatta bene me la devo fare da solo e esce meglio e più velocemente ma è un fallimento perché perché se tu vuoi crescere in una dinamica fraterna non devi fare le cose da solo anche se le fai secondo te meglio e più velocemente devi rallentare il passo e devi coinvolgere gli altri io avevo trovato una tecnica infallibile trovavo le persone che sapevo che non mi contestavano e quindi voi fate parte del mio gruppo ma semplicemente perché in questa maniera continuavo io a fare tutto velocemente secondo i miei tempi ma però è sbagliato è sbagliato perché nella chiesa e in ogni esperienza fraterna si cresce in santità in fraternità quando si ha la carità di saper aspettare gli altri di saper coinvolgere gli altri e avere pazienza che le cose condivise sono più lente più imperfette però santificano potrebbe succedere che con questa mentalità dice il miglior monastero è quello dove sono solo io non c'è nessuno allora il miglior monastero al mondo funziona esattamente come io ce l'ho nella mia testa ma l'attrito che noi abbiamo nella vita fraterna è ciò che ci aiuta nel nostro percorso di santificazione quindi mai contestare un'autorità pensando che essendo un'autorità deve essere ideale l'autorità è sempre umana e quindi avere carità nell'accettare che le persone che ci guidano hanno la loro umanità voler bene a queste persone se volete che una persona funzioni nella responsabilità bisogna volerle bene perché chi si sente voluto bene dà il meglio di sé se uno si sente giudicato si chiude e ci si scontra ma non basta semplicemente voler bene e legittimare le persone che ci guidano attraverso la carità chi guida come Mosè deve imparare a delegare a fare atti di fiducia soprattutto perché questo aiutano le persone a crescere e siccome noi non siamo eterni prima o poi anche se non vogliamo mollare noi madre natura dice basta e se noi non abbiamo aiutato nessuno a crescere è un problema serio perché una persona che ha esercitato davvero la maternità o la paternità ha creato persone in grado di diventare madri e padri ok terzo aspetto ascolto e correzione fraterna se dice il Vangelo se tu ti accorgi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te prima di presentare l'offerta lascia da parte la tua offerta vai dal tuo fratello mettiti d'accordo con lui poi torna e presenta l'offerta o ancora ci dice la parola di Dio se tuo fratello sbaglia prendilo singolarmente se non ascolta prendilo davanti ai due tre testimoni dopodiché portalo davanti alla comunità alla fine dice mettilo in una situazione dove possa pagare le conseguenze di questa mancanza di ascolto ora l'ascolto e la correzione fraterna è una cosa molto importante perché certe volte i due eccessi sono questi primo noi non facciamo correzione fraterna in modo tale che evitiamo scontri e quindi evitiamo di dire le cose così non turbando nessuno è preservata la comunione scusate sorelle questa è una forma di ipocrisia non dire le cose per paura di scontrarsi è una forma di ipocrisia se tu vedi una sorella che sta sull'orlo del precipizio e per non turbare gli animi non le dici che un passo successivo precipita questo non è amore è mancanza di amore voler bene significa dire la verità io non lo so se noi siamo abituati a questa capacità di ascolto nella correzione fraterna cioè di accettare che l'altro possa dirmi qualcosa che mi edifica anche quando mi mette i paletti anche quando mi svela le cose che io non vedo di me e cioè quello che normalmente ma questa è semplicemente la mia visione vi prego prendetela con le pinze ma io la condivido così davvero in maniera fraterna quello che nel mondo normale una persona delega ha una guida spirituale in particolare in un contesto monastico di vita comunitaria è la comunità la guida spirituale la comunità è la comunità che ha l'occhio su di me che mi aiuta a capire dove devo raddrizzare le cose ma se ogni volta che qualcuno ci dice qualcosa noi la prendiamo come l'esa maestà è un problema serio perché se io vado dal mio padre spirituale il mio padre spirituale mi dice guarda che se vivi in questo modo tu stai sbagliando e io comincio a dire chi sei tu come ti permetti tu a dire quello dice scusa tu sei venuto da me e io vi direi voi avete deciso di entrare in una comunità di vivere l'esperienza monastica entrando in un'esperienza monastica in un'esperienza di vita comunitaria voi state accettando che la comunità vi guidi spiritualmente la comunità quindi dalla prima all'ultima sono lì per guardare la nostra vita con benevolenza con aiuto con accompagnamento con carità e qui è una domanda molto seria noi accettiamo la correzione fraterna? che rapporto abbiamo con la correzione? punto numero due siamo capaci di correzione fraterna nei confronti degli altri? anche qui bisogna avere molta carità nel dire le cose che se tu vai dall'altro e vai con l'atteggiamento della maestrina con la penna rossa e la penna blu non lo so quanto bene tirerai fuori dall'altro se tu per dire una cosa vera disprezzi l'altro non lo so se l'aiuti nel percorso di santificazione forse si santifica in termini di martirio nel senso sopportare te è una forma di martirio ma non è correzione fraterna perché la correzione fraterna è quello che fa Gesù con la samaritana Gesù ha il potere di raccontare tutta la verità di questa donna senza che questa donna si senta giudicata la correzione fraterna è quello che ha Gesù con l'adultera alla capacità di rettificare un errore di una persona dicendo esattamente questa frase qualcuno ti ha giudicata dice nessuno signore neppure io ma adesso va e non peccare più la correzione fraterna è la capacità di saper dire la verità in modo tale che la verità edifichi e quindi gesti parole modalità eccetera dovrebbero sempre rispecchiare la carità ma è inutile che parliamo di sinodalità quando noi non abbiamo capacità di correzione fraterna io diffido sempre di quelli che dicono io sono aperto a tutte le critiche ma in realtà quando qualcuno poi si azzarda a fare una critica in realtà questo mi serve cioè serve a quella persona a sapere chi deve far fuori prossimamente qui significa che c'è qualcosa che non sta funzionando nei nostri rapporti fraterni no? anche Caino e Abele erano fratelli non mi sembra che è andata a finire molto bene anche Giuseppe aveva dei fratelli non mi sembra che è andata a finire bene anche lì è finita bene ma perché il Signore ha fatto finire bene una fraternità iniziata male allora non è facile vivere a stretto contatto i legami fraterni poi non vorrei dire qualcosa di sessista anche essere donne può peggiorare ancora di più diciamo così il contatto stretto nei legami fraterni ma questa cosa però ci mette nella situazione di dover dire che ascolto noi abbiamo nella correzione fraterna e abbiamo compreso che chi è il soggetto che mi aiuta nel crescere nel mio percorso spirituale la comunità prima ancora di una guida singola è la comunità la grande voce del percorso della mia santificazione terzo aspetto l'ascolto dell'ascolto della chiesa il sentire cum ecclesia anche questo è importante guardate che io mi sto accorgendo in questo frangente storico ma forse semplicemente perché avendo un'occasione me ne accorgo con più con più forza che ognuno si fa la chiesa che vuole cioè ognuno si prende dalla chiesa quello che vuole della chiesa la chiesa ha un sentire comune che è quello del magistero ad esempio e che il magistero non è mi piace non mi piace il magistero è il sentire della chiesa cioè se tu non senti secondo il magistero tu hai un problema non il magistero e se tu cominci a pensare che in realtà dobbiamo resistere perché è passato questo pontificato poi dobbiamo resistere a queste spinte che ci stanno no tu hai un problema se hai un problema con il pontificato di Papa Benedetto o di Papa Francesco o di Papa Pinco Pallo e avere delle comunità che non sentono con la chiesa è un problema molto serio perché quelle comunità hanno la superbia spirituale di pensare di essere nel giusto fino al punto da potersi sentire al di sopra della chiesa in realtà sono fuori non al di sopra sono fuori dalla chiesa lo sono implicitamente diritto canonico quando una persona fa un atto contro alcune cose di materia grave parla di scomunica late sentenze significa che quella persona senza bisogno di un tribunale è scomunicata per quello che sta facendo cioè scomunicare significa fuori dalla comunione io sono molto preoccupato quando in alcune esperienze ecclesiali mi accorgo che non c'è un sentire con la chiesa il che non significa perdere l'identità non fare sentire la propria voce non avere un atteggiamento di come devo dire anche critico no critico costruttivo in alcune situazioni ma c'è un desiderio profondo quello di dire in questo momento cosa sente la chiesa come sta andando la chiesa dove sta andando la chiesa allora la domanda è noi stiamo sentendo con la chiesa stiamo ascoltando la chiesa stiamo andando nella stessa direzione della chiesa vi dico una cosa che voi già fate però quando il papa parla di chiesa in uscita e quando parla di chiesa in uscita parla dell'ascolto delle persone lontane io so benissimo che i monasteri molto spesso sono ascolto di persone lontane e che a volte nella vostra esperienza monastica dovete accogliere molto persone con delle vite e delle storie molto disastrate nel fare questo non state tradendo il vostro ideale monastico state sentendo con la chiesa monache che sentono con la chiesa esercitano nel loro specifico un certo sentire ecclesiale che cos'è la missionarietà per un monastero non so rispondere a questa domanda ma dovreste farvela però questa domanda perché se la chiesa attuale sta dicendo ad alta voce che non ci può essere chiesa senza missionarietà come può una persona che vive tutta la sua vita nello stesso posto vivere una chiesa in uscita c'è una modalità sì che c'è qual è? capite che dirlo e metterlo in pratica vi fa sentire con la chiesa quindi non bisogna tollerare la chiesa o resistere finché la chiesa non fa esattamente quello che io penso che dovrebbe fare la chiesa ma capire che la chiesa in realtà detta il passo anche della mia esperienza vocazionale della mia esperienza monastica della mia esperienza comunitaria quindi possiamo parlare di sinodalità quanto vogliamo se poi noi non sentiamo con la chiesa la sinodalità è un giocattolo che noi tiriamo fuori semplicemente perché a un certo punto vogliamo far valere quelle che sono le nostre fissazioni chi vive la sinodalità significa che è interessato ad ascoltare la chiesa anche qua vi pongo un'altra domanda quanto spazio dedicate alla lettura del magistero alla lettura ad esempio dell'enciclica al modo attraverso cui ad esempio un'esortazione apostolica un'enciclica il magistero della chiesa universale e anche della chiesa particolare quella dove voi vivete voi vi mettete proprio a ascoltarla per mettervi nella stessa linea d'onda parlando ai sacerdoti tante volte mi capita di dover dire una cosa molto grave che noi preti leggiamo il magistero attraverso i giornali peggioro la situazione leggiamo il magistero attraverso i titoli dei giornali cioè noi non leggiamo più le encicliche leggiamo quello che un articolo dice di un'enciclica e pensiamo di aver capito non lo so le enciclica semplicemente perché due tre titoli ci hanno sintetizzato a volte in maniera distorta il pensiero molto più complesso che viene raccontato all'interno di un documento la pazienza di ascoltare di leggere i documenti a parte che vi porterebbe una ricchezza straordinaria a far questo e poi domandarsi sempre se questo è il sentire della chiesa nella mia vocazione questo come come ci entra a livello personale a livello comunitario come comunità come noi mettiamo in pratica questa cosa ecco in questo tentativo di ascolto accade una vera sinodalità allora concludo che cosa ho voluto condividere con voi oggi nel numero uno della regola di San Benedetto noi leggiamo questo ascolta figlio mio gli insegnamenti del maestro e apri docilmente il tuo cuore accogli volentieri i consigli ispirati dal suo amore paterno e metti in pratica con impegno la vostra regola inizia con un ascolto significativo di Dio avete nella natura stessa del carisma della vostra chiamata la qualità dell'ascolto ora se noi vogliamo mettere mano all'ascolto che è davvero la declinazione dell'amore il primo ascolto è la capacità di ascoltare noi stessi chi sa discernere il proprio cuore è in grado poi di fare il resto ad esempio di ascoltare gli eventi di ascoltare gli altri e di capire che il grande esercizio dell'ascolto ci viene da quello che è l'ascolto della parola di Dio ma l'ascolto deve essere sempre preceduto dalla fiducia il nostro è un ascolto fiducioso non un ascolto disperato è un ascolto capace di dare fiducia ecco la capacità di guardare con uno sguardo di benevolenza che ci guida e chi guida saper dare fiducia attraverso la condivisione della propria responsabilità con gli altri è un ascolto che ci aiuta a crescere nella santità perché è l'ascolto fraterno ed è un ascolto che ci fa sentire con la chiesa non al di sopra della chiesa non al di fuori della chiesa ma nella chiesa quando noi ascoltando quello che dice la chiesa tentiamo di metterlo in pratica nella nostra vocazione specifica bene lascio queste condivisioni queste provocazioni a ciascuno di voi poi avrete modo di confrontarvi e di condividerle insieme grazie